Benvenuti nel nostro canale, importante per noi avere il tuo supporto, prima di iniziare il video premi il pulsante iscriviti, lasciami un mi piace, e attiva la campanella per non perderti le prossime novità. Influencer e personaggi di OnlyFans fuori dal grande fratello, ex tronista tuona contro Pier Sivio Berlusconi. La scena mediatica è in fermento a seguito delle decisioni intraprese dalla dirigenza di Mediaset, guidata dall'ad Pierre Silvio Berlusconi, per trasformare il grande fratello in un programma meno incline al trash e più orientato verso tematiche sociali ed etiche. Ma mentre il cambiamento cerca di guadagnarsi l'approvazione di alcuni, c'è chi non è affatto felice delle conseguenze che sta generando. Un ex tronista di Uomini e Donne e attivo protagonista di OnlyFans, Luca Speracchi, ha sollevato una questione critica riguardo alle scelte che stanno spingendo alcune figure fuori dall'ambito del grande fratello. In un mondo in cui i confini tra realtà e mondo virtuale si fanno sempre più sfumati, le piattaforme come OnlyFans hanno aperto nuove opportunità di reddito per influencer e creatori di contenuti. Questi individui, con milioni di follower e spesso generose entrate online, stanno diventando un fenomeno emergente. Tuttavia, la loro partecipazione al mondo dello spettacolo televisivo tradizionale è diventata un terreno di controversia, poiché alcuni di loro sono stati esclusi dalla possibilità di partecipare a programmi come il Grande Fratello, Luca Speracchi, una figura che ha dimostrato di essere in grado di navigare agilmente tra il mondo dei social media e quello di OnlyFans, ha espresso apertamente la sua insoddisfazione per tale discriminazione. L'ex tronista, che ha fatto il suo ingresso nell'arena dello spettacolo come attore di Uomini e Donne, oggi ha ampliato la sua portata diventando un influencer e attore per adulti su OnlyFans. Peracchi ha sollevato una questione chiave. È giusto vietare a coloro che lavorano su piattaforme come OnlyFans di partecipare a programmi televisivi tradizionali, in un contesto in cui il mondo dello spettacolo sta attraversando una fase di profonda riforma. La selezione delle figure da inserire in determinati programmi sta diventando sempre più un tema delicato, mentre il Grande Fratello cerca di abbracciare nuove tematiche e punti di vista. Escludere chiunque operi su OnlyFans potrebbe essere visto come un atto di pregiudizio e un mancato riconoscimento dell'evoluzione dei confini dello spettacolo. Peracchi si oppone alle decisioni prese dalla dirigenza di Mediaset, affermando che non è giusto impedire a chi lavora su Of di partecipare a certi programmi, è ridicolo. Egli argomenta che, al contrario, si dovrebbe approfondire ulteriormente il processo di selezione, concentrandosi sulla storia e le capacità del singolo individuo piuttosto che giudicarlo esclusivamente in base a ciò che fa online. Secondo lui, un casting più approfondito potrebbe rivelare persone con storie interessanti e capacità uniche che potrebbero arricchire il panorama televisivo. L'apertura al dibattito proposta da Peracchi solleva una serie di interrogativi. Fino a che punto il mondo dello spettacolo tradizionale dovrebbe abbracciare le nuove forme di intrattenimento e reddito online? C'è spazio per una convergenza tra le due realtà, o le linee di confine dovrebbero essere chiaramente tracciate? Mentre il dibattito si fa strada. La voce di Luca Speracchi e la sua prospettiva critica suggeriscono che c'è ancora molto da discutere e considerare nell'evoluzione dell'industria dell'intrattenimento. Ti è piaciuto il video? Iscriviti al canale, metti un like e attiva la campanella!